Nei giorni scorsi insieme all'assessore Cicero abbiamo provveduto alla pulizia delle caditoie nelle zone critiche della città e proprio in questi minuti ci arriva una richiesta da parte della Regione Veneto di attenzione soprattutto nella rete secondaria, quindi fognature e fossati. Attenzione anche per il Bacchiglione, ma abbiamo attivato la protezione civile sia locale ma anche in rete con le altre realtà del territorio per prevenire problemi alla cittadinanza e per eventualmente intervenire in maniera puntuale. Consiglio ai cittadini di seguire soprattutto gli organi di stampa in questi giorni che li terranno informati sulla situazione ma soprattutto anche i profili social ufficiali del Comune di Vicenza che saranno aggiornati minuto per minuto e quindi qualsiasi cittadino potrà sia confrontarsi ma anche informarsi e capire qual è la situazione e cosa deve fare.